Poteva finire in tragedia l'incidente che ha coinvolto la band e che Colors a pochi chilometri da Isernia. Invece Stash e i suoi compagni di band, Alex Fiordispino e Daniele Mona, se la sono cavata solo con un grosso spavento. La band, che ha un nutrito gruppo di fan che li segue sui social network, è impegnato nel tour estivo. Ma l'ultima data prevista in Molise ha rischiato di saltare per un incidente. È stato Stash a dare per primo la notizia, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram per avvertire i fan molisani, che aspettavano la band a Venafro, in provincia di Isernia, per un evento. Saremo un po' in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava a contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male, si legge nel post social. Il leader dei Colors non ha chiarito la dinamica dell'incidente ma ha menzionato un camion a contromano, con il quale l'auto della band si è scontrato mentre viaggiavano verso la cittadina di Venafro. Il van con a bordo Stash e i suoi compagni non sarebbe riuscito a evitare il mezzo pesante, limitando i danni materiali e lasciando fortunatamente illesi i tre componenti del gruppo. Non è la prima volta che sulla statale 17 si verificano situazioni simili. Lo scorso marzo una vettura aveva imboccato il tratto stradale contromano, mettendo a rischio l'incolumità di altri automobilisti. E Colors, grave lutto per Stash, quello che abbiamo realizzato è anche suo. Nonostante il grande spavento, come promesso, i e Colors sono arrivati comunque a Venafro nella tarda serata. E ad attenderli nella piazza principale c'erano migliaia di spettatori. Il concerto è iniziato con un po' di ritardo, ma quando la band è salita sul palco per esibirsi dell'incidente è rimasto solo il ricordo. Il pubblico molisano ha fatto sentire tutto il suo affetto e calore a Stash e compagni, e, alla fine della serata, il gruppo ha voluto ringraziare i fan intervenuti con un mega selfie di gruppo. Raga cosa casa è stato il concerto di stasera, hanno scritto su Instagram i tre artisti, pubblicando la foto e dimenticando il brutto inconveniente di poche ore. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video grazie.